L'ultima seduta del Consiglio Comunale dell'Anno a Capaccio Pestum è stata convocata ieri, 29 dicembre, per approvare le nuove tariffe della tassa sui rifiuti. Grazie alla lotta all'evasione e all'elusione tributaria portata avanti dal comune di Capaccio Pestum, la tari sarà più bassa a partire dal 1 gennaio 2022. Le tariffe diminuiranno del 18% a carico delle utenze domestiche, ovvero per i nuclei familiari e del 3% per le utenze non domestiche, ossia per le attività produttive. La diminuzione delle tariffe della tari serviranno per combattere l'evasione e l'elusione tributaria messa in atto dal comune di Capaccio Pestum attraverso l'ufficio Tributi, una lotta che, consentendo di scovare numerosi evasori, ha conseguentemente ampliato la platea dei contribuenti. Da qui la diminuzione delle tariffe che per il secondo anno consecutivo va a invertire una tendenza, solitamente al rialzo, ma la lotta all'evasione e all'elusione non si ferma. L'obiettivo per il 2022 è quello di concentrare l'attenzione sulle superfici non a ruolo che riguardano le attività produttive fantasma. In questo modo si potrà ampliare la platea della superficie globale a ruolo e di conseguenza abbattere anche le tariffe per le attività produttive utenze non domestiche. Nessuna variazione infine per IMU è canone unico patrimoniale e canone mercatale. Il Consiglio ha deliberato di non aumentare le tariffe, confermando quelle in vigore. Nel 2021, per il secondo anno consecutivo, il comune di Capaccio Pestum diminuisce le tariffe della Tari in maniera significativa, ha dichiarato il sindaco Franco Alfieri, il tutto a fronte di un potenziamento dei servizi e quindi di un miglioramento della loro qualità, avviato lo scorso luglio. Se questa diminuzione delle tariffe è stata possibile, diminuzione che va incontro alle famiglie in un momento in cui la pandemia mette tutti a dura prova, è solo perché l'amministrazione ha scelto di portare avanti una serrata lotta all'evasione e all'elusione. Il concetto è semplice, se paghiamo tutti, paghiamo tutti di meno. Non solo continueremo questa lotta per il 2022, ma andremo anche a potenziarla.